Ciao a tutti, mi trovo in un centro commerciale in Russia e volevo fare gli auguri di Buon Natale a tutti voi, specialmente ai siriani di Aleppo, lo mando così, perché è curioso che mentre da noi si spegnevano tutte le luci alla Torre Eiffel e a Montecitorio per ricordarli, loro le accendevano ad Aleppo per festeggiare il Natale e la liberazione dei terroristi, ma di questo ne parlerò un'altra volta. Adesso volevo solo mandarvi un grande abbraccio e un augurio di pace, speriamo che l'anno nuovo porti tante belle notizie e che finalmente le persone che stanno soffrendo per la guerra possano festeggiare la pace tutti insieme. Ciao a tutti!